Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ha inviato agli uffici preposti del MIBACT la richiesta di un tavolo d'ascolto per l'avvio del progetto Magna Grecia, il percorso che vedrà la Regione Calabria soggetto proponente di una rete per la candidatura della Magna Grecia a patrimonio dell'umanità. Nei mesi scorsi, informa l'Ufficio Stampa della Giunta, il Presidente si era già a lungo confrontato su questo tema in più riunioni interlocutorie alla cittadella con Patrizia Nardi, esperta in valorizzazione del patrimonio culturale e candidature UNESCO, con docenti dell'Università Calabresi e dell'Università di Messina, ma anche con amministratori locali e con l'associazionismo culturale, allo scopo di verificare la possibilità di integrare e mettere a sistema i programmi regionali per la riqualificazione e la valorizzazione della vasta area riconducibile proprio a terre di Magna Grecia, ad un progetto finalizzato alla fattibilità di un percorso di candidatura aperto anche alle altre regioni meridionali, parti storicamente integranti del sistema delle colonie greche nel Mediterraneo. Sull'argomento è intervenuto anche Domenico Cappellano, console regionale per la Calabria. A nome delle articolazioni territoriali calabresi del Touring Club italiano, esprimo il più grande compiacimento per l'iniziativa del Presidente della Regione Calabria, ha affermato. Il percorso, riferito ancora, è oltremodo valido sotto il profilo culturale anche per il recupero delle radici storiche delle colonie della Magna Grecia ed è vicino alla nostra interpretazione dell'idea di lancio turistico. Il Touring Club italiano, nelle sue articolazioni regionali calabresi, dichiara sin da ora la propria disponibilità a collaborare con l'iniziativa.